Quando noi siamo andati in montagna, le ripito, io non ero iscritto al Partito Comunista, io mi sono iscritto dopo al Partito Comunista e tra l'altro voglio dire per inciso che non sono d'accordo con quelli che dicono che il Partito Comunista plagiò la resistenza e è avvenuto il contrario, è stata la resistenza a plasmare il Partito Comunista, perché se il Partito Comunista si è differenziato, pur con tutti i legami con la Russia, con tutti eccetera, dai molti altri partiti comunisti d'Europa è perché noi abbiamo fatto la resistenza, e perché i valori della resistenza li abbiamo trasferiti nella Carta Costituzionale, che non ci è stata regalata dall'alto, ma che è costata sacrifici e sangue. E la libertà è una cosa che basta incontrarla per amarla. E così è stato.